Il Libero Consorzio Provinciale si dota di un innovativo strumento di programmazione turistica. Il commissario straordinario dell'ente, Girona Malberto di Pisa, ha infatti approvato il piano di comunicazione turistica proposto dal settore turismo, ambiente, attività economiche, produttive, infrastrutture stradarie e protezione civile. L'ente, attraverso questo strumento di programmazione, intende farsi promotore dei progetti e azioni dirette a valorizzare e a sostenere il territorio, i suoi prodotti, le sue peculiarità e potenzialità che se messi a sistema possono sviluppare nuove economie e rendere concreta la rete di promozione territoriale. Il compito del piano di comunicazione turistica è quello di potenziare con azioni e strumenti la cultura dell'accoglienza e dell'ospitalità finalizzata alla promozione del sistema turistico e al rafforzamento dell'immagine del territorio provinciale. Le due azioni individuate nel piano puntano sulla migliore accoglienza possibile sulla promozione del territorio. Per perseguire il primo obiettivo, il piano agirà sull'attività di informazione e comunicazione, proseguirà l'attività di coordinamento dei servizi di informazione e accoglienza turistica degli infopoint istituiti con protocolli d'intesa con comuni e associazioni pro loco dislocati a Canicattica, Steltermini, Cattori Caraclea, Favara, Lampedusa Linosa, Licata, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocchi, Siculiana e Real Monte. Si punterà inoltre a promuovere altri servizi di informazione e accoglienza e intervenire per il miglioramento degli standard anche attraverso la realizzazione dei day plan dedicati ai luoghi e sedi degli infopoint territoriali. La seconda azione punta sulla promozione del territorio, agendo su due leve, l'aggiornamento e potenziamento dei contenuti nelle pagine del sito istituzionale sul turismo dell'ente che è livingagrigento.it, la realizzazione di nuova deplantistica. Living Agrigento, concepito e redatto come strumento di divulgazione e promozione del territorio e dell'ospitalità di Agrigento e provincia, sarà ulteriormente arricchito di contenuti e immagini su itinerari storici, culturali, religiosi, naturalistici e enogastronomici, eventi e manifestazioni, destilazioni e prodotti, servizi turistici. Le attività di promozione che è il settore turismo sono state sempre incentrate sulla predisposizione e produzione di strumenti cartacei prodotti dal piano di comunicazione turistica. Si tratta di un lavoro interamente realizzato dagli uffici, nonostante le difficoltà legate all'incertezza istituzionale.